Radio ventiquattro libera la voglia di fare Nessuna è perfetta Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile Di Maria Latella Buona domenica, buona domenica Bentornati a Nessuna è perfetta Il programma di Radio 24 che vi rompe le scatole ogni domenica Con la sua battaglia contro il multitasking Sto pensando in particolare al nostro fedele ascoltatore Che domenica scorsa implorava su Twitter No per favore non citate più il multitasking Né all'inizio né alla fine Ciascuno ha le sue ossessioni Noi qui abbiamo l'ossessione del multitasking Perché è una fregatura Caro ascoltatore di Radio 24 È una fregatura che soprattutto Influenza in peggio la vita di molte donne Però se ci vuoi bene Seguici lo stesso e perdona E perdona la nostra citazione Di ossessioni è costellata la vita di tutti noi Ma anche di soddisfazioni Scusate non è una soddisfazione che Ivanka Trump La first daughter americana Scriva un libro che esprime alcune delle perplessità Delle problematiche che domenica dopo domenica affrontiamo qui A nessuna è perfetta E dalla first daughter passiamo alla première dame Brigitte Brigitte ormai la conosciamo tutti col suo caschetto biondo Brigitte Trogne Coniugata Macron Brigitte dicono tutti che è stata una delle chiavi del successo della vittoria di Emmanuel Macron E però di sicuro quello che ho potuto constatare analizzando i dati relativi alla prima tornata elettorale Quella in cui Macron si qualificò per il ballottaggio insieme a Marine Le Pen In quell'occasione sicuramente le elettrici tra i 45 e i 65 anni hanno dato un forte impulso alla vittoria di Macron Insomma si sono riconosciute forse nella première dame in questo amore così poco scontato Lei ha 24 anni, più di lui e la notevole differenza di età ancora oggi nel 2017 ha suscitato una quantità di commenti, frecciatine, retroscena Addirittura la cosa più banale è che si trattasse di un rapporto madre figlia, una copertura perché secondo alcune fonti non so quanto francesi o quanto invece di social media etero guidati Insomma secondo queste fonti Macron è il paladino di una potente lobby omosessuale E il tutto perché sta con la simpatica e forte Brigitte da quando aveva 16 anni Insomma comunque è la prima volta che il pettegolezzo sulla presunta omosessualità di un politico in ascesa Tanto in ascesa che è diventato Presidente della Repubblica fa flop nel senso che non ha avuto alcun effetto sulla elezione di Macron E sono proprio curiosa di sentire cosa pensa la gente provocatore di questa domenica Benvenuto, benvenuto a Filippo Maria Battaglia, giornalista di Sky TG24 Ben trovati, grazie Filippo Maria Battaglia è stato già ospite di Nessuna è perfetta Con Stai zitta e vai in cucina il suo libro di qualche tempo fa e ora torna con un nuovo libro Ho molti amici gay, la crociata omofoba della politica italiana per bollati boringhieri Filippo Maria Battaglia Prima di raccontare un po' quelle che sono state le manifestazioni omofobe della politica italiana Vorrei chiederti, secondo te perché ha fatto flop l'utilizzo dell'arma rivelata sia appunto spuntata Di mettere in circuito il gossip sulla presunta omosessualità di Macron? Perché probabilmente la società francese rispetto a quella italiana sotto questo punto di vista è un po' più avanti I dati e le statistiche ci dicono che l'omofobia in Francia è presente ma in modo molto meno rilevante che in Italia E questo grazie a Dio condiziona molto meno l'opinione pubblica e l'elettorato E in una sfida così polarizzata una simile diceria che non era soffregata da alcuna prova, alcun contesto E poi allora fosse una prova da esibire comunque non ha certamente fatto presa nell'elettorato C'è un atteggiamento che è proprio di alcuni partiti o è un atteggiamento bipartisan Quello della dissidenza in politica rispetto all'omosessualità? È stato bipartisan nel primo trentennio della Repubblica Italiana In Non Molti Micidi Gay racconto molti episodi che riguardano la sinistra Da Togliatti a Berlinguer che insultavano i propri avversari politici Allora anticomunisti definendoli filosofi degli investiti o pederasti Questo capitava a sinistra come a destra appunto Mostri Sacri, Cone Sacri come Togliatti o Berlinguer non erano esclusi da questo Così come a destra accadeva Devo dire che poi negli ultimi 20-30 anni a sinistra le cose sono migliorate Anche mentre a destra sono rimaste un po' negative A sinistra però è rimasta una certa diffidenza Almeno fino a qualche anno fa A trattare dei temi dei cosiddetti diversi Considerati minoranza E per questo non prioritari rispetto all'agenda del Paese Ci sono vicepresidenti del Consiglio O segretari di partiti di sinistra Che nel 2006 quando si discuteva dei cosiddetti dico Dicevano che il centrosinistra si era fatto incastrare in questioni marginali Rispetto ai veri problemi del Paese Quindi questa resistenza è rimasta Però in modo diverso rispetto a destra Senti nel libro fai parecchi esempi Citi frasi omofobe rimaste celebri Io personalmente ricordo quella degli anni 90 Dell'allora portavoce di Gianfranco Fini Francesco Storace Che ha un gruppo di colleghi Che gli chiedeva Francesco dici qualcosa di sinistra Mi pare che fosse così la frase Si è una frase rimasta negli annali Grazie alla penna acuta di Guido 40 È stata smentita da Storace Però resta comunque una delle frasi Che incardinano bene il livello del dibattito politico in Italia Così come accadeva con il maschilismo Quando il dibattito politico diventa arroventato Allora l'accusa di omofobia in questo caso Scagliata all'avversario anche in modo assolutamente Cioè in ogni caso in modo assolutamente arbitrario Ma anche nei confronti di personaggi pubblici Che non sono eterosessuali Secondo una certa classe politica Un certo tipo di classe politica Serve a squalificare l'avversario Senti Filippo ma se tu volessi fare Come dire un florileggio Cogliere fior da fiore Le battute che danno più l'idea Di quanto appunto sia stata omofoba La politica italiana Quali battute citeresti? Puoi farne due o tre? Guarda appunto Ti citerei a sinistra probabilmente Pasolini e Berlinguer Togliatti e Berlinguer Ma qual era la frase? Togliatti nei confronti di Gide Che accusava Insomma cercava di fare un'analisi Contro il comunismo Piuttosto strutturata Dice Eh lui è stato in Russia Se quando fosse stato in Russia Le avrebbero dato un bel bestione Così dice Probabilmente certe cose Non le avrebbe mai dette È una frase che lascia interdetti Soprattutto se si conosce Il livello intellettuale Anche di Togliatti Che era sicuramente Abituato a Quindi sì Ci sono delle cose sorprendenti Le reazioni sorprendenti Invece a destra? A destra Un'icona conservatrice Che poi è stata riutilizzata A sinistra Sicuramente Il Presidente della Repubblica Scalfaro Che negli anni Della sua presidenza Decise di non presenziare Ai funerali di Versace E non inviò Neanche un telegramma Il Foglio scrisse Un Per quanto sia Un bravo stilista E comunque gay Quindi Non va Non va Alla cerimonia Il Presidente Non va Il Foglio lo diceva In modo ovviamente polemico Quello fu un episodio Che ripensandoci Oggi Mi sembra Incredibile Grazie Filippo Maria Battaglia E buona domenica Grazie a voi Buona giornata Nessuna è perfetta Eccoci Bentornati a Nessuna è perfetta E come sapete È il momento Della nostra Sunday Girl E la nostra Sunday Girl Di questa domenica È una donna Che non si ferma Mai Davanti a niente Benvenuta Buona domenica Simona Ventura Benvenuta Buona domenica Anche a te Buona domenica A tutte voi A tutte noi A tutte noi Allora Dopo il successo Della prima edizione Sei tornata Da lunedì 8 maggio Con Selfie In prima serata Su Canale 5 È una bella Sono tornata Con Selfie Ti devo dire Che è una grande Soddisfazione È un programma Che è iniziato In un modo E sta finendo In tutto in un altro E sta cambiando Ognuno di noi Perché il fatto Di far bene Far del bene Alle persone Veramente Ti 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 dà tanta Soddisfazione Si va a casa Sicuramente Leggeri E col cuore Carico Di nuove emozioni Nuove sensazioni Perché Selfie Ha Per chi non l'avesse Ancora seguito Ha Diciamo Come missione Quello di aiutare Le persone Che vivono Negativamente Un aspetto Fisico Oppure Si sentono Psicologicamente Insicure Esatto Insicure Che vogliono Cambiare qualcosa Del proprio aspetto Che sia fuori o dentro Però Che magari Per tutta una serie Di motivi Non sono mai riusciti A Insomma A dare Questi cambiamenti Che siano Motivi economici Ovviamente Nella maggior parte Oppure Tante volte Tu cadi in un buco nero Non riesci mai A recuperare Selfie Non vuole Ovviamente Cambiare Un percorso di vita Ma vuole Solo dare uno stimolo A stimolare Insomma Una rinascita Una ripartenza Poi sta La persona stessa Ovviamente Essendo l'arbitro Del proprio destino Sta la persona Stessa A cercare Di Vivere la propria vita Come meglio crede Noi Cerchiamo di dargli Una spinta Verso questo Noi facciamo un po' Questa cosa Sul fronte Del lavoro Infatti Questo è un programma Che si chiama Nessuna è perfetta Perché parte Dal presupposto Che la perfezione È una fatica Come dire Da non affrontare In una vita sola Prendiamoci un po' Così come siamo E miglioriamoci Poco poco Tante volte L'imperfezione Ci Forse Anche più importante L'importante È che non sia Un'imperfezione Consciua Ci vuole Diciamo Una varietà Di stimoli E una varietà Di colori Nella nostra vita Infatti Noi parliamo Di varietà In questa puntata Anche sotto Il profilo Delle scelte Delle scelte Sessuali Perché parliamo Della varietà Che è assolutamente Ormai entrata Anzi È sempre più popolare Nelle dimensioni Degli uffici Nel mondo Dello spettacolo Poi più che mai Di persone Che non Non nascondono Le loro scelte Sessuali Per esempio Si definiscono Sanza problemi Gay Lesbiche Eccetera E nel mondo Dello spettacolo Questo forse È un po' più facile Che in un In un ufficio Di provincia Io credo Che sia delle persone Di buon senso E anche delle persone Che abbiano Una mentalità Un po' aperta Una mentalità Se vogliamo Che per troppi anni È stata Un po' chiusa Nel nostro paese Quella di giudicare Le persone Per quello che facevano In camera da letto Invece le persone Vanno giudicate Per quello che fanno Poi al di fuori Di quello che sono Le loro Diciamo I loro gusti sessuali Insomma Lo dice anche La Costituzione Per cui Io non ho mai Trovato giusto Che una persona Che sia gay O lesbo O eterosessuale Potesse essere Giudicata Per le sue scelte Ma anzi Doveva essere giudicata Per quello che lui faceva Quello che lei faceva E se era una brava O una cattiva persona Cioè L'intelligenza Secondo me Non ha sesso Quindi Sono ben contenta Che con l'andare del tempo E con l'insistenza Devo dire E con l'aprirsi Verso il futuro Adesso Questa cosa Anche grazie a internet Questa cosa Diciamo che Questa cosa È molto migliorata È un pregiudizio Che secondo me Assolutamente superato Abbiamo visto Che tra l'altro È un'arma Come dire Che se viene usata In politica Fallisce miseramente Nelle settimane Nelle settimane scorse Quando Macron Saliva nei consensi In Francia Cominciarono a dire Che siccome È sposato Con una donna Che ha 24 anni Più di lui Era impossibile Che si trattasse Di un matrimonio Adesso In Francia Adesso 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 Sì Io sinceramente Voglio vederlo Alla luce Dei fatti Ecco Voglio vedere Cosa potrà fare Certamente È un simbolo Della speranza Per l'Europa È un giovane Il fatto che avesse Questa moglie L'età della moglie A me personalmente Non interessa nulla Mi interessa Che possa fare qualcosa Per la Francia E quindi Per l'Europa E quindi Siccome noi siamo In Europa Anche insomma In chiave Diciamo Italiana Ecco Ma La cosa Che ha colpito È come Si sia sgonfiata Miseramente La Come dire L'arma Del pettegolezzo Sul fronte Dei gusti sessuali Perché non funziona più Esatto No Non funziona più Ma in Francia Forse può funzionare Ancora in Italia Mi dispiace dirlo Forse questa cosa qui Era una pruderia Anche molto italiana No Però In Francia È fallita miseramente Perché Comunque sia Siamo a un punto In cui I vecchi partiti Il vecchio establishment Sta fallendo miseramente Si cercano altre persone E finalmente Si guarda anche Quello che possono fare E quello che possono fare Nella vita pubblica Poi nella vita privata Uno fa Un po' quello che vuole Quindi aspettiamo Aspettiamo i risultati E vediamo Giudichiamo Da quello che porta Si esatto Io Non mi esalto più Diciamo L'ho fatto in passato Ma adesso Voglio vedere le persone Alla luce dei fatti Quello che succede dopo Perché È troppo facile Capito Puoi salire sul carro Dici Ah che meraviglia È arrivato Diciamo Il nuovo messia Però poi dopo Alla luce dei fatti Vediamo i risultati Vediamo quello che Sono i suoi progetti Vediamo se li porterà a termine Senti un ultimo Sarò pronta Sarà anche io Anche tu dopo O chiunque altro Sarriò Macron Un'ultima cosa Da sempre Tu sei conosciuta Come SuperSimo Hai seguito Passo passo Non soltanto L'evoluzione Dei tempi La tua carriera Eccetera Ma anche L'educazione Dei tuoi figli Noi qui A Nessuna è perfetta Abbiamo una teoria Cioè il multitasking Di cui siamo vittime Tutte Me Compresa E più che mai È però un'enorme fregatura Perché costringe Le donne Soprattutto loro A dimostrarsi brave In terreni diversissimi A essere brave mamme Ottime professioniste Mogli eccellenti Amiche Figlie di genitori anziani Che accudiscono E poi anche In perfetta forma fisica Sempre truccate Cioè cose che Forse A nessuno sarebbero chieste Tu col multitasking Che rapporto hai No il multitasking Lo seguo Certamente Come tutte Le persone Come tutte le mamme Come tutte le mogli Come tutte Le persone che lavorano Ho le mie difficoltà Però cerco di portare avanti tutto Certo Ho capito in questi anni Che qualcosa sul campo Devo pur lasciare Qualcosa sul campo Si lascia Anche se noi Tu cosa lasci Un grande fallimento Beh io ho lasciato Un matrimonio Ho lasciato tante cose Per seguire determinati obiettivi Per i figli Per le cose Però poi dopo tutto Con la calma Con il tempo Torna Diciamo Questo è un tempo Che non ti Che non ti dà tempo Ecco Questo è il mio gioco di parole Nel senso che È tutto molto caotico Tutto psicotico Tutto veloce Invece bisognerebbe Fermarci un attimo E che con calma Dicevano i nostri nonni Chi va piano Ma stanno E va lontano Con calma Ciao Con calma Le cose si mettono a posto Tua figlia La tua bambina Quanti anni ha? A mia figlia Dieci anni E a tua figlia Che messaggio lanci Come futura Giovane donna Che cosa Le trasmetti? A mia figlia Come ho dato Ai maschi Naturalmente In maniera Diversa Eccetera A mia figlia Lascio Il meglio Di quello Che ho ricevuto Non si può avere La patente Di buon genitore Siamo sempre Abbastanza Ovviamente Ci sentiamo sempre Non all'altezza A determinate occasioni Però devo dire Con lei Ha un rapporto Molto bello È una bambina Speciale Parliamo molto E insomma Cerco di dare Il meglio Di quello Che ho ricevuto Certamente Loro Sono figli Di internet Per cui Sono tecnologici Al massimo Eccetera Eccetera Quello Che forse Gli manca È proprio Questa Cioè Non riescono A concentrarsi E non riescono A rilassarsi Quello Gli manca Un po' Però È una bambina Non sia Non sia Soltanto Il momento Del Così Della visibilità Dei cinque minuti Di popolarità È un grande stimolo Per migliorarsi Per rivivere Vedere queste persone Che piangono di gioia È già Per noi Una grossa soddisfazione A te Maria Grazie E ci manchi Nell'editoria Quindi torna presto Buona domenica Allora Grazie Simona Grazie Nessuna è perfetta Bentornati Bentornati Alla terza parte Di Nessuna è perfetta Noi questa domenica Parliamo Di Diversità Stimolati Dalla lettera Di una nostra Ascoltatrice Lucia Che vedrete Che ascolterete Tra Poco E stimolati Dal fatto Che Nella recente Campagna elettorale Francese Di cui Tutti Stiamo ancora Parlando Un Argomento Usato Contro Emmanuel Macron È stato Quello Di Avere Un matrimonio Di facciata E di essere In realtà Gay Come se L'essere gay Fosse Un limite Alla sua Candidabilità Allora Parlando Qui a Nessuna è perfetta Tutte le domeniche Di lavoro E di problematiche Sul lavoro Estendiamo Questo Aspetto Della vita Di relazione Alla politica Alla politica Con i nostri due Esperti Di questa domenica Imma Battaglia Attivista Una dei leader Del movimento LGBT In Italia Buona domenica Imma Battaglia Buona domenica Buona domenica A tutti Grazie E Mario Adinolfi Giornalista politico Direttore Della Croce Buona domenica Allora Adinolfi Tu hai dedicato Molta attenzione A Macron E quando lui È stato eletto Trimavisi Dall'estero Di Macron In Germania Ah ho capito Quindi tu Stavi su una chiave Diciamo Di geopolitica Noi molto più Modestamente Pensavamo Che fosse Una battuta Una battutaccia Sul ruolo Di Brigitte Gli vuol dicendo Twitter ti dà 140 caratteri Si usa Le 140 caratteri Battaglia Perché Il pettegolezzo Usato Contro Macron Vale a dire Si è sposato Con una donna Di 24 anni Più grande Perché in realtà È gay Perché questo pettegolezzo Ha fatto flop Non ha avuto Alcun effetto Sulla campagna Elettorale Tant'è che lui Adesso è all'Eliseo Beh diciamo Che in Francia Sono abituati Da un bel po' di tempo Ad essere All'avanguardia Rispetto ai Politici gay Ricordo il caso Del sindaco di Parigi Della Nob Quindi Credo che proprio Sia una Nazione Fortunatamente Che ha superato Il gossip Intorno al tema Gay Anzi Peraltro Io ho apprezzato Molto Il fatto Che in realtà Macron Sia un vero Diverso Perché È atipico Il caso In cui Un uomo Abbia una moglie Più grande No Siamo abituati A vedere Gli uomini Che Hanno vent'anni Meno delle donne Che ci accompagnano Per cui Io Trovo Che sia ancora una volta La Francia Una grande avanguardia In tema di diversità E di diritti Ecco Una cosa Che Suscita Normalmente In tutti i casi In cui un banchiere Si candida A un ruolo politico È quello Che rappresenta La lobby Poteri forti L'establishment Eccetera In questo caso All'accusa Di essere un banchiere Messo lì Dai poteri forti Si è aggiunta L'accusa Di essere Il paladino Della lobby gay E Adinolfi Ovviamente Non ha Non si è fatto Scappare l'occasione Di Twittarlo È un po' Gratuita Questa Diciamo Questo pregiudizio Adinolfi Se non sappiamo Il tema Il tema in Francia Era un po' Più complesso Cioè Il tema Non era che fosse gay Il tema era Perché non lo dicessi Cioè Il dibattito in Francia Non si è Innescato Sul fatto che fosse O non fosse gay Il dibattito Che ha poi Insomma Ha avuto uno sviluppo Molto importante Che non ho sviluppato io È stato indicato Addirittura Chi era il nome Del fidanzato Chi era il vertice Di Radio France Insomma Tutta una serie Di questioni Non da gossip Ma questioni politiche Cioè Dicevano Perché il probabile Presidente francese Non racconta tutto Della sua vita Questo è l'elemento Interessante Insieme c'è La questione Di legami Con la massoneria Che è una questione Abbastanza importante Perché non dice Non esplicita Alcuni legami Perché alcuni finanziatori I più grandi finanziatori Della campagna Di Macron Sono George Soros David Rothschild E Goldman Sachs Con circa 6 milioni Di euro versati Questi temi Non sono temi banali Che attengono Alla diversità O se si è sposato Con una signora Più anziana E la domanda era Ed è tuttora Chi è davvero Macron Allora questo è L'elemento Che sicuramente Interessa Se dietro Questo paramento C'è una rappresentanza Di una lobby Per precisa Questo andava esplicitato Ai francesi Sicuramente Sui temi Che poi sono le cose Che mi interessano di più Macron è assolutamente Uno Che rappresenta Le istanze Del mondo LGBT Istanze E poi noto Di un contrasto Ecco Ma Battaglia Se dal Diciamo Dallo scintillio Del potere Che ora Vede Macron Perfettamente Inserito Se da Da questa immagine Appunto Di successo Che ora Ci viene trasmessa Ci spostiamo A un terreno Molto più Day by day Vale a dire Se uno È gay E non ha voglia Di dirlo Per esempio In un proprio Ambiente Di lavoro Ha tutte le ragioni Per farlo O invece Sarebbe meglio Trovare il coraggio E aprirsi Io credo Che Il dichiararsi Sia un fatto Esclusivamente Personale E che Merita Molta Attenzione E rispetto Perché Non è Scontato Che per le persone Il percorso Del coming out Pubblico Sia un percorso Doloroso talvolta Non solo Per il fatto Di dichiararsi In pubblico Come fatto Proprio Personale È una maturità È un processo Individuale Molto particolare È chiaro Che nel caso Di un politico Io Ritengo Che sia Fondamentale La trasparenza E quindi Sono completamente Contraria Ai politici Che si nascondono Rispetto al tema Dell'omosessualità Piuttosto che Anche Insomma Non Anche quelli Che sono sposati Regolarmente Che invece Hanno le doppie vite Tradiscono le mogli Tradiscono i mariti No Io credo Che Il mondo Oggi Più che mai Chiede Politici seri Per il caso Di Macron Qui facciamo Delle relazioni Insomma Macron Ha una relazione Da lungo tempo Con quella Che è la moglie Quindi io Non riesco a capire A proposito Dei politici Che Secondo Ima Battaglia Dovrebbero Essere sempre Trasparenti Nel Nel Gesto Di Dichiarare In tv La propria Omosessualità Ima Battaglia Ha riconosciuto Il fatto Che fosse Un gesto Politico Vero Assolutamente Anche perché Io ed Eva Abbiamo una relazione Da molti anni Eva Grimaldi Eva Grimaldi Sì esatto Ne abbiamo parlato Molto Sinceramente Però Non abbiamo Cioè noi Non ci siamo mai Nascoste La dichiarazione Pubblica In uno spettacolo Popolare In uno show Televisivo È un'altra cosa È un momento Che ha a che fare Con una Come dire Una dichiarazione Broadcast Che È diversa Da quella Nell'ambito Familiare Degli amici Ecco Quella lì Noi sapevamo Che avrebbe avuto Un effetto Anche abbastanza Devastante Impattante Invadente Nella nostra vita Privata Avevamo scelto Di essere Più riservate Nella mia Vita politica Eva È sempre Stata presente Io ricordo Delle sedute Di consiglio comunale Di bilancio In cui Eva È stata Con me Anche fino alle Due Tre di notte Quindi io Come personaggio Politico Non ho mai Nascosto Nulla Ma Diciamo Da illo Tempore Non certo Da oggi Il momento In cui Un personaggio Di spettacolo Ed è La prima donna Riconosciuta E riconosciuta La prima artista In Italia Che fa una dichiarazione Non generica Di essere Gay Ma dice Io amo In ma battaglia Credo che La potenza Di questo gesto È ben più forte Della semplice Dichiarazione Sono gay Eva Ha dichiarato A telecamera Fissa Amo In ma battaglia E io credo Che L'amore La dichiarazione Dell'amore Abbia una potenza Mondiale Universale Impattante Molto bella E ha anche Riportato Per quanto mi riguarda Sul filone Giusto La questione gay Trattasi d'amore E l'amore È meraviglioso È anche vero È anche vero Adinolfi Che C'è una Una super Esposizione Adesso Si sta Vedendo In tutti gli Eventi A Hollywood Le attrici Che si baciano Sulla bocca C'è Quasi La necessità Di Rompere Il tabù Ma romperlo Continuamente Può essere Un effetto Può creare Un effetto Diciamo Di Saturazione Diciamo la verità Ma è una moda Una moda Che funziona Si va Sul palco Del festival Di Sanremo Con il nastino Alcobaleno Obbligatorio Applicato Direttamente Dai dirigenti Rai Al festival Nazional Popolare Per eccellenza Ci si Espone A un applauso Generalizzato Perché questa Appartenenza È un'appartenenza Universalmente Ormai Dal punto di vista Mediatico Purtroppo Anche dal punto di vista Politico e giuridico Che è la questione Un pochino più complicata Rispetto al diritto Di famiglia È qualcosa Di universalmente Accettato Di chi vendola Vai in America Si compra un bambino Torna in Italia E va in prima pagina Sulla copertina Del settimanale Berlusconiano Patinato Cioè Con il bambino In braccio Mentre fa il bagno A mare Sicuramente Con una fotografia Non rubata Diciamo così È ormai diventato Establishment Tutto questo È molto interessante È una novità Non da poco Che una piccola lobby Si sia fatta Establishment E restablishment Quelli vehementi Violenti Potenti Che all'interno Di molti contesti Rappresenta qualcosa Di assolutamente Inscalfibile Perché se provi A mettere in discussione Alcune questioni Diventa Omofobia Immediatamente Addirittura Il voler discutere Se è giusto o no L'autore in affitto Grazie a Imma Battaglia Attivista e politica italiana Leader del movimento LGBT E grazie a Mario Di Nolfi Direttore della Croce Buona domenica A tutti e due Grazie 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 Ecco Questa è l'ultima parte Lo sapete Di Nessuna è perfetta Coincide Con la lettera Della settimana Che è stata un po' Lo spunto Per questa puntata Perché siete spesso voi A suggerirci I temi Di domenica In domenica E in questo caso E in questo caso Il tema Ce l'ha davvero Fornito Lucia Vi ricordo Che potete Scriverci all'indirizzo Nessuna è perfetta Chiocciolaradio24.it O Contribuire Con i vostri commenti Su Twitter E su Facebook Cara Maria Scrive Lucia Ho 43 anni E lavoro In una Grande Azienda Non so Se il tema Sia in linea Con gli argomenti Che trattate Di solito Ma ci provo Tra i miei colleghi Ci sono anche Due gay Io Non ho assolutamente Nessun problema Ma noto Che altri Nei loro confronti Hanno un atteggiamento Ipocrita Di facciata Sono tutti gentili Disponibili Ma Quando loro Girano le spalle Non mancano Le frecciatine E i commenti Della serie Stanno facendo La lobby gay Che cosa Succede Secondo te Nei nostri Uffici Dove si parla Tanto Di parità Di genere E di diversità Già Cosa succede Lucia In realtà Credo Credo Che Nei confronti Dei tuoi colleghi Gay Ci sia Un misto Di pregiudizio Non espresso E come dici tu Preso Nascosto Sotto la facciata Ipocrita Di sorrisi Ma poi Sotto sotto Anche La vecchia Tradizionale Come dire Diffidenza Nei confronti Di chi magari È più bravo E può fare Può essere Una minaccia Alla tua carriera Vediamo Cosa ne pensa La nostra coach Di questa domenica Carla Ciani Buona domenica Carla Ciani Buona domenica A tutti Allora La prima Delle pillole Che vorremmo Da Carla Ciani Su questo tema È appunto Riconoscere Il diverso In questa situazione Lavorativa Appunto Individuiamo Un pregiudizio Che viene Mascherato O Piuttosto C'è il timore Di vedersi Ridurre Il proprio Diciamo Le proprie potenzialità Di carriera La prima pillola Ci deve Aiutare A comprendere Che Il bisogno È antico È un bisogno Di riconoscerci In un gruppo Di simili Tra i quali Noi possiamo stare E muoverci Con sicurezza Ciò che Conosciamo E ci è noto Ci tranquillizza Ma in realtà Ogni volta Che in azienda Soprattutto Entra In un gruppo Già costituito Un nuovo componente Al di là Dell'accoglimento Formale Sempre Deve essere Superato Questo Questo test Di ingresso E tutta una serie Di paure Poi quando ci sono Diversità Culturali Sessuali Di età Anagrafica Scattano Dei meccanismi Di difesa Molto forti Cioè quelli che c'erano Prima Fanno barriera E temono Che i nuovi arrivati Possano sottrarre Loro Assolutamente O possono portare Dei contenuti Di potere Quindi questi meccanismi Di difesa E il cambiamento Della composizione Del gruppo Sono molto forti E l'accoglienza È solo formale Cioè come dire Imposta Dalle regole Del contesto Rimangono I pregiudizi I preconcetti Le presunzioni Anzi si rafforzano Tramite La paura E tutto questo Preconfezionamento Ci limita E quindi con questa pillola Dovremmo Come dire Esercitarci A togliere il pre Quindi Sento di avere Un pregiudizio Mi chiedo Invece Togliendo il pre Qual è il mio giudizio In questo momento Come giudico Questa situazione Ho un preconcetto Qual è ora Il mio concetto Rispetto a questa diversità È una presunzione Perché penso Di presumere Cioè Già di conoscere Qualcosa a riguardo Insomma Questo esercizio Di togliere il pre Ci consente Di comprendere Meglio Le cose In cui Mi riconosco Quelle che rifiuto E magari Se in questo rifiuto C'è La paura del cambiamento La paura del potere Dell'altro La fatica Magari Di sperimentare L'altro Ecco Vorrei Vedere Nella seconda pillola Un Diciamo Una valutazione Di quello Che è La citazione Che faceva Appunto La nostra Ascoltatrice Vale a dire L'evocazione Della lobby Gay Che è stata fatta Anche Per Macron In queste Settimane Evoca appunto Un gruppo Di potere Coeso Che proprio Perché Coeso Può Portarti Via Qualcosa Allora Negli ambienti Di lavoro Magari Non è che Proprio Si citi La lobby Come Se fosse Appunto La campagna Elettorale Di Macron Ma qualcosa Del genere Forse Comunque Si percepisce In questo Caso Come si Smonta Questo Pregiudizio Prima di tutto Con la coerenza Francamente Ritengo Che non ci sia Niente di più Discriminante Che Da una parte La comprensione Ad oltranza E Dall'altra parte Quelle situazioni In cui Fa bello O fa potere Essere giovane O essere senior O essere gay O essere donna Certo Alla base Ci devono essere Le competenze E le capacità A volte Questa Rappresentazione Del lobby O del gruppo Coeso È una giustificazione Alla nostra Incapacità Di accoglienza E anche Di incapacità Di vedere bene Il valore Del gruppo Costituito Capita Viceversa Anche Che per La paura Di passare Per Discriminatori Ci facciamo Andare bene E tutto ciò Che E magari Non ne siamo convinti E poi magari Coltiviamo Una certa rabbia La cosa importante È che se davvero Qualche comportamento Del nostro collega Diverso Ci disturba O ci impaurisce Quando soprattutto Pensiamo Che possa essere Addirittura Fonte di Incomprensione O di Derisione Per favore Alziamo il rischio E diciamoglielo Senza timore Grazie Grazie a Carla Ciani La nostra Coach Di questa domenica Buona domenica Buona domenica A tutti Buona domenica Buona domenica Buona domenica Buona domenica